non potevo non fare un video perchè raga Griezmann ambassador di Yu-Gi-Oh cioè una cosa che io non avrei mai pensato di vedere sinceramente hanno fatto anche il video su Instagram dopo andiamo un attimo a vedere e commentiamo però qui a quanto pare Antoine Griezmann per chi segue il calcio un grande giocatore del Barcellona, il più pari campionato del mondo del 2018 e diventa ambassador di Yu-Gi-Oh e niente, è tutto qui, è tutto qui in realtà non so se avrà potere, grandissimo potere decisionale però vabbè non importa, comunque diciamo che tra virgolette ha un colpo abbastanza mediatico per la Konami cioè siamo passati dal lo structure non ve lo portiamo al ciao guardate c'è Antoine Griezmann che gioca Yu-Gi-Oh quindi teoricamente è un colpo mediatico molto molto forte andiamo a vedere un attimo il video che è questo qui aspetta questo qui parla di Joy e il suo momento preferito aveva detto che era nel labirinto quindi contro Yu-Gi-Oh e Joy contro i fratelli Paradox questo è rimasto di più del 2002 se vedrebbe che ci sono i link penso scapperebbe però va bene non metto l'audio ragazzi perché è un po' un casino perché poi l'ultima volta è successo il panico con l'audio beh comunque pensare che Antoine Griezmann giocava da piccolo quando ci giocavamo anche noi dai dai fa comunque piacere è una cosa che un po' it's time to 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 è questo bene grandissimo colpo mediatico da parte della Konami basta e già che ci siamo parliamo dell'OTS al volo sono queste qui Cyber Drago Firewall Droplet Cyber Scene il servito del teschio si pompa la masola dell'imperatore e vabbè i caporetti i sincro altre carte non mi ricordo poi la carta migliore che è Peter il clown oscuro niente vabbè raga questa qua era tanto per aumentare il video insomma Antoine Griezmann nuovo ambassador della Konami di Yu-Gi-Oh bene ragazzi questo è un video proprio scazzo al carissimo video scazzo che prendo e pubblico però vabbè noi ci vediamo nel prossimo video ragazzi spero che comunque questi aggiornamenti rapidi vi possano piacere per chiunque segua il calcio o no comunque se c'è qualcosa di Yu-Gi-Oh sia di novità o se c'è qualcosa che mi interessa glielo porto magari c'è gente che apprezza noi ci vediamo nel prossimo video e un saluto a tutti